La crisi non nasce dal coronavirus, la crisi è da una parte un modo d'essere permanente della modernità e dall'altra, un po' più concretamente, è la situazione nella quale ci troviamo come minimo della caduta dell'Unione Sovietica, cioè diciamo è il modo d'essere del mondo globalizzato, che è unico ma non unificato e anzi proprio perché è unico è non unificato, cioè è sottoposto a una serie di contraddizioni che non trovano freno, non trovano argine, perché non trovano i confini degli stati, o meglio non trovavano perché abbastanza lentamente all'interno del mondo globale si sono poi riformati dei nuclei di potere politico concreto, determinato, che sono sostanzialmente Cina, Russia e Stati Uniti più potenze regionali che stanno dimostrando che è possibile tornare a ragionare sulla scena internazionale in chiave spaziale, cioè che non è vero che c'è un comando totale e invincibile delle logiche economiche, ma che queste possono essere piegate, orientate dal potere politico. Nulla di democratico, sia chiaro, il potere politico piega le logiche economiche a fini di potenza, non a fini di democrazia o di giustizia, ma insomma non è più, non è più lecito parlare di un mondo globalizzato e quindi privo di politica. Ora, crisi come modo da essere del neoliberismo è crisi del neoliberismo, è crisi della globalizzazione sostanzialmente. Crisi vuol dire momento di divisione fra un prima e un dopo ed è appunto un termine che nasce in ambito medico perché indica il momento in cui una malattia si aggrava fino al punto che o il paziente muore o il paziente comincia a star meglio, cioè è un punto che divide. Noi adoperiamo la parola crisi in modo un po' meno drammatico per indicare sostanzialmente instabilità, anomia. E l'anomia, come dicevamo, fa parte della nostra esperienza storica almeno da 40 anni e anche se si viene delneando un nuovo nomos della Terra, cioè nuovi sistemi ordinativi, certamente non sono privi di anomia. Lo vediamo tutti i giorni, in ogni caso c'è un intrecciarsi di dimensione globale permanente, l'economia è parzialmente catturata dalle logiche politiche ma è parzialmente libera e poi abbiamo avuto questa pandemia che è il simbolo della globalizzazione, cioè il simbolo di qualche cosa che si muove senza frontiere e che sembra invincibile e che può essere combattuto soltanto attraverso frontiere, cioè soltanto attraverso logiche spaziali che vanno dal blocco delle comunicazioni fra gli stati e dunque fanno dall'implemento, dall'implementazione delle logiche confinarie alle logiche di confinamento, cioè ci hanno chiuso in casa. Come la intendiamo oggi, cioè questa crisi pandemica sanitaria è in realtà un'esperienza nella quale precipitano tante crisi precedenti, cioè non dobbiamo cadere nella illusione prospettica che quello che è capitato sia un primum assoluto. Lo è in parte, nel senso che certamente c'è un momento in cui il Covid-19 non c'era e c'è un momento nel quale il Covid-19 c'è, anche se non riusciamo ancora a capire quando è cominciato. Ma insomma, il Covid-19 è un'occasione, questa epidemia è un'occasione perché precipitino tante altre crisi, è una mega crisi che con un insieme di matriosche ne contiene e dà senso a tante altre crisi, appunto particolarmente le crisi della globalizzazione dal punto di vista politico, da crisi delle quali abbiamo già parlato. I fattori di crisi c'erano già e come, ed erano crisi all'interno di quella grande crisi che si è aperta quando l'ultimo momento di ordine del mondo è andato a pezzi. Un ordine non è necessariamente giusto, non è necessariamente stabile e tuttavia era sicuramente un ordine meno instabile di quello che dopo abbiamo sperato. Noi non siamo ancora in grado di dire se dentro la crisi pandemica, all'interno della quale stanno le crisi precedenti, se la crisi pandemica è arrivata a se stessa un punto di crisi, cioè se siamo nella condizione di poter dire usciamo, stiamo uscendo. Quando lo saremo, speriamo di essere presto in questa condizione, quando lo saremo ci guarderemo intorno e vedremo il mondo cambiato e dunque potremo dire sì, la pandemia è stato un punto di crisi, cioè ci spezza la storia in un prima e in un dopo. Oppure potremmo dire, come io credo sia più probabile e più corretto, la pandemia è stata una crisi ovviamente, ma non spezza il mondo, la storia del mondo in un prima e in un dopo, perché la pandemia ha semplicemente accelerato e approfondito processi che erano già in atto. Da questo punto di vista tutte le crisi sono crisi endogene, crisi esogena, cioè un asteroide che colpisce la Terra, una carestia che affama interi continenti o una pandemia che stermina metà da un certo punto di vista, un fattore di crisi esogene, vengono dal di fuori. Dall'altra tuttavia, e particolarmente nel caso di questa pandemia che non stermina tutta l'umanità, ma rende la vita dell'umanità ancora più difficile, sono crisi endogene, cioè crisi che nascono dal di dentro e che hanno la capacità non di azzerare un mondo, ma di produrne trasformazioni, di solito trasformazioni in linea con processi che erano già in atto, che dalla crisi vengono esaltati. Questo per quanto riguarda crisi. Dunque, siamo in crisi ma non sappiamo ancora se la crisi è stata una crisi, cioè se è finita e ne usciamo, e non sappiamo ancora se la crisi è stata una crisi, nel senso che una volta che ne saremo eventualmente usciti, si possa dire, si possa ragionare in termini di prima e di dopo, in senso assoluto. Parliamo dell'Italia perché la conosciamo. Il fatto che vi sono circostanze, un'epidemia è una di queste, in cui la società si scioglie, si dissolve, cioè in cui i legami sociali tradizionali esistenti vengono meno, vengono tagliati, vengono rescissi e se ne formano altri. E questo formarsi non è un formarsi spontaneo, è il frutto dell'azione del potere politico. Quali sono i legami sociali che si disfano, che si dissolvono? I già deboli legami sociali, indeboliti dal neoliberalismo che è essenzialmente un potere individualizzante e quindi non è molto amico dei legami sociali, ma insomma i legami sociali che costituiscono il tessuto organico o disorganico della società. La famiglia, le comunanze di lavoro, le associazioni di ogni tipo alle quali ciascuno di noi partecipa, le forme di aggregazione per sport, per svago, insomma il fatto che la società non è normalmente descrivibile come un deserto di sabbia fatto di tante particelle, tutte uguali fra di loro, tutte libere, tutte alla mercedi qualunque soffio di vento. Un minimo di, non dico di solidità che è dir troppo, ma un minimo di consistenza plurale. Ecco, questo è stato, è precisamente ciò che va a pezzi quando c'è un'epidemia, perché appunto le strategie di confinamento tipiche dei tentativi di far fronte dell'epidemia, rompono la comunicazione, rompono il commercio fra gli uomini e isolano, isolano e dunque portano in una prima, da un primo punto di vista portano a una situazione di deserto di sabbia, cioè non ci sono più costrutti, ma ci sono soltanto atomi. Ma questi atomi a loro volta vengono messi in forma, a questi atomi viene data una forma nuova, una forma che è tale da un punto di vista sanitario, per cui abbiamo nuovi confinamenti, nuove forme di aggregazione di ciò che non è unito, ma è soltanto aggregato, per cui nuovi tipi d'uomo, tipi di cittadino. Il malato, il portatore sano, l'anziano, il sospetto ammalato, il guarito, il malato terminale, il malato intubato, il malato con sintomi, il malato chiuso in casa, quello invece che è stato portato all'ospedale. Tutti i tipi di, tutte classificazioni nuove, la società appare sotto un volto nuovo. Ciascuna di queste categorie non volontarie, ma categorie prodotte da una classificazione di carattere sanitario resa efficace e valida dalla politica, ciascuna di queste categorie ha diritti e doveri diversificati, ha libertà diversamente vigilate. E questa è un'esperienza che noi stiamo vivendo sostanzialmente, no? Un'esperienza che sicuramente è nuova, da questo punto di vista è nuova per noi e che sicuramente confligge con la normalità anche come è descritta nella Costituzione. L'emergenza ha portato il potere a entrare nello Stato d'eccezione. Che ha, il quale Stato d'eccezione ha le seguenti caratteristiche. Consiste nel fatto che lo Stato d'eccezione è la tipica manifestazione della sovranità interna, all'esterno la tipica manifestazione della sovranità è la guerra, all'interno è la dichiarazione dello Stato d'eccezione, anzi la gestione dello Stato d'eccezione. Ha le seguenti caratteristiche. Di vedere lo Stato d'eccezione vede nel mondo disordine non l'ottimo. È una cosa molto semplice. Vedere il mondo dal punto di vista del disordine può dire vederlo dal punto di vista dell'eccezione e sentirsi impegnati a fare dell'emergenza un'eccezione e dell'eccezione un nuovo ordine. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la sovranità, che è il soggetto attivo, la sovranità si pone davanti e la società come davanti a qualche cosa di infinitamente manipolabile, infinitamente plastico, infinitamente scioglibile e riformabile. Prima osservazione, altro che fine della sovranità. La sovranità ce l'abbiamo davanti a noi nella sua forma più visibile. Seconda osservazione, quella su cui è nato un po' di molto modesto dibattito. Questo Stato d'eccezione nel quale ci siamo trovati a vivere è costituzionale o è anticostituzionale? Ecco, detto altrimenti, come si è permesso il governo di impedirci di uscire per strada? Ha fatto un atto arbitrario o quello che ha fatto, e dunque ha fatto un atto, ha posto in essere uno Stato d'eccezione che è un fatto arbitrario appunto, o invece si è mosso all'interno della Costituzione? Risposta, la domanda è malposta, è la Costituzione che contiene l'eccezione. Mi spiego? Se la Costituzione è un organismo vivente, non soltanto un insieme di norme astratte, è il prodotto essa stessa di uno Stato d'eccezione, nel nostro caso italiano è l'esito di un processo di almeno due anni, tra il 1943 e il 1945, altro che eccezione, una guerra civile, e dunque ha dentro di sé una possibilità di plasticità. Allora, si dirà sì, ma al tempo stesso le Costituzioni liberal-democratiche a forte impianto costituzionalistico come la nostra pongono dei precisi vincoli, limiti alla plasticità, al fatto che il potere politico possa considerare assolutamente plastica la società. Non siamo in un regime assolutistico, siamo in un regime in cui sulla scorta del liberalismo abbiamo detto che la società ha dentro di sé valori, istituzioni, entità solide e intoccabili che non sono disponibili per il potere sovrano. E' vero, abbiamo anche detto, si dice, si sa che il caso d'eccezione, che di per sé è sostanzialmente una bomba atomica, dentro le Costituzioni liberal-democratiche viene accolto, non nella nostra, viene accolto al massimo come fatti specie, evidentemente, cioè una Costituzione può dire che in certe circostanze alcuni poteri si possono permettere certi comportamenti. Non può dire, non può autonegarsi, il testo scritto non può autonegarsi dicendo ci sarà il momento in cui ci sarà un'eccezione e tutto salterà per alto. Certo, la nostra Costituzione non dice nemmeno quello, non va al di là della calamità naturale. Tuttavia, e questo è il punto, tuttavia, diciamo così, vi è una logica intrinseca della sovranità, una sorta di DNA della sovranità, anche della sovranità più costituzionalizzata, della sovranità più civilizzata, e questa logica ha agito anche da noi in Italia, anche in questa volta. Cioè, la logica del disfare e del rifare. Senza che formalmente, è una cosa interessante questa, senza che formalmente si siano prodotti strappi alla Costituzione, sostanzialmente si sono prodotti grossi strappi alla Costituzione. sostanzialmente siamo stati, e teoricamente siamo ancora chiusi in casa, se chi ha una proprietà, una seconda casa, continua a pagarci le tasse sopra, ma non ne può godere, e tanti altri paradossi di questo tipo. Come si è arrivati a ciò? Si è arrivati a ciò combinando diversi livelli di attività giuridico-amministrativa-politica, mettendo insieme una legge, cioè il codice della protezione civile, mettendo insieme atti normativi, come decreti legge convertiti, e mettendo insieme atti amministrativi, come decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e mettendo insieme una implicita interpretazione gerarchica dei diritti soggettivi elencati in Costituzione, mettendo sopra gli altri il diritto alla sanità. Tutto ciò, con qualche tensione, può stare insieme dal punto di vista formale, ma la forma non è la sostanza in questi casi, la sostanza è che la sovranità ha parlato, ha manifestato le proprie logiche, e le ha manifestate attraverso procedure che hanno coinvolto marginalmente il Parlamento e che sono state procedure che sono state essenzialmente in capo a un vertice politico, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le più classiche regole della sovranità. Il vero problema non è se ci sono state violazioni della Costituzione, la cosa interessante, semmai sotto il Consiglio scientifico, è vedere come a Costituzione invariata si possono fare, dentro la stessa Costituzione possono coesistere diverse modalità di esistenza sociale, diciamo così. Il vero problema è quando finisce questa cosa, cioè se quello che stiamo vivendo ha da essere eccezione anche sotto il profilo della durata, o se quello che, come tutti ci auguriamo, o se quello che stiamo vivendo nella testa di molti ha una nuova normalità, cioè se ciò che ci si prospetta è un avvenire fatto di limitazioni sempre più fastidiose, diciamo così, della libertà individuale, di telelavoro, stiamo attenti perché il telelavoro è l'atto finale dello spezzettamento del corpo dei lavoratori, evidentemente. Non c'è nulla di più isolante, individualizzante e anche alienante del telelavoro. Se il nostro futuro sarà un futuro di libertà vigilata, libertà condizionata, se vivremo controllati da app di vario tipo, se vivremo il lavoro in modalità sempre precarie in attesa di una normalità che non arriverà mai perché ci saranno sempre minacce di questa o di quella epidemia, se insomma questo è il vero rischio, se insomma la eccezione diventa normalità e allora sì che si potrebbe dire che questa crisi è davvero una crisi, cioè che questa crisi è veramente lo spartiacque non fra il pieno godimento di una libertà liberale, democratica, costituzionale in uno Stato costituzionale, no, fra una fase di vigenza almeno formale di determinati assetti ordinamentali e una fase in cui la vigenza formale resta ma quegli assetti sono definitivamente svuotati di significato fino al momento in cui presumibilmente si passerà anche a modificare gli assetti formali, del resto lo si dice ormai apertamente che il nostro futuro non è più il godimento sereno del plusvalore neoliberista su scala globale ma il nostro futuro è un duro confronto più che competizione economica un confronto paramilitare comunque sia un confronto di modelli di civiltà con la Cina e questo fa sì che la Cina parta enormemente avvantaggiata in virtù della sua struttura politica interna e che dunque noi non dobbiamo lasciare questo vantaggio alla Cina e dobbiamo rinunciare un po' di democrazia per avere un po' più di efficacia questo viene detto bisogna rinunciare circa il 10% della nostra democrazia che cosa voglia dire non è chiaro perché noi abbiamo rinunciato altro che il 10% da un certo punto di vista ma sostanzialmente formalmente no rinunciarvi anche formalmente può voler dire allungare la durata delle legislature cioè far votare i cittadini meno meno spesso o qualunque altra cosa o sottrarre alla dinamica politica i capisaldi della dinamica economica ecco porre fuori dalla sfera politica determinate soluzioni economico-istituzionali che so io il divorzio fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro che fu un lato fondativo del neoliberismo in Italia che in linea teorica potrebbe essere superato oggi renderlo insuperabile escludere dalla volontà politica della nazione qualunque materia di carattere economico-istituzionale togliere al Parlamento il diritto di discutere e votare i bilanci dello Stato lo si sta facendo di fatto e lo si potrebbe mettere in forma scritta anche di diritto qualunque cosa sia sarebbe sovranità e come? è sovranità e sarebbe ancora più sovranità dire che la sovranità è un concetto obsoleto è profondamente sbagliato la sovranità è l'ambiente dentro il quale si svolge la politica si tratta di capire se è la sovranità nostra o di qualcun altro ma la sovranità spunta fuori da tutte le parti quando c'è politica e è spuntata fuori in Europa c'era sempre bastava volerla vedere adesso difficilmente si può negare che la Germania abbia rivendicato cosa che ha sempre fatto sia chiaro ma insomma adesso l'ha fatto in modo che anche in una dettiera voi lo capiscono ha sempre rivendicato la propria sovranità dentro il concetto di sovranità c'è anche quello di superiorità che vuol dire superiorità che la Germania rispetto alla normativa europea sulla base del principio che sono gli stati a essere i custodi dei trattati non i trattati a essere i custodi degli stati il concetto è che gli stati sono i custodi dei trattati ma certo condiviso da tutti a parole tranne che dall'Italia la quale ha deciso che la normativa europea è di rago superiore rispetto alla normativa italiana mentre i tedeschi appunto l'altro giorno hanno detto che non c'è motivo al mondo per pensare che la normativa europea sia superiore alla normativa tedesca perché non c'è motivo al mondo perché questa superiorità della normativa europea è concepibile soltanto se dietro la normativa europea ci fosse una sovranità cioè se l'Europa fosse un'unità politica lo ha detto la signora Merkel in modo chiarissimo l'Europa non è unione politica quindi la normativa europea non ha superiorità rispetto alla normativa degli stati sovrani la politica è fatta di sovranità e non di altro il diritto il diritto vige nella misura in cui ha dietro di sé una politica altrimenti è un castello di carte questo viene detto nella sostanza viene detto questo nella forma è stato detto dalla Germania che la BCE con il quantitative easing di Draghi e poi quel po' di quantitative easing che è seguito a quello di Draghi è andata come si dice ultravires cioè ha fatto cose che non stavano dentro i trattati che la costituiscono e si è comportato in modo autonomo come se fosse una vera banca centrale espressione di una unità politica come esiste la Fed negli Stati Uniti che benché indipendente rispetto al potere politico degli Stati Uniti tuttavia è uno dei modi attraverso cui si esprime l'unità politica degli Stati Uniti così la BCE si è comportata come se fosse interna ad una unità politica come se fosse uno dei modi attraverso i quali si esprime un'unità politica superiore agli Stati agli Stati Membri il che non è non c'è perché rispetto agli Stati Membri non vi è nulla di superiore nulla di politicamente superiore e la struttura giuridica il sistema normativo dell'Europa può funzionare soltanto come un algoritmo cioè come un'entità tecnica può fare soltanto ciò che gli Stati Uniti deve fare può solo eseguire i compiti che sono previsti nei trattati che restituiscono senza alcuna volontà autonoma perché una volontà autonoma della BCE sarebbe una volontà politica o comunque sarebbe una volontà espressione di una volontà politica la BCE non ha fatto acquisti di titoli di debito pubblico nei modi e nelle forme dovute previste dai trattati si è comportata in modo discrezionale quindi ha sbagliato è andata ultra-viles chi può comportarsi in modo discrezionale chi è un soggetto politico la BCE non è un soggetto politico né fa parte di un soggetto politico superiore agli Stati naturalmente questo vale quando lo dicono i tedeschi se noi dicessimo qualcosa del genere finiremmo con l'essere definiti sovranisti ma la verità è che tutti i ceti politici di governo in Europa sono sovranisti per definizione ogni Stato membro è ancora uno Stato sovrano tranne per quanto riguarda la sovranità monetaria la nostra posizione secondo la quale la normativa europea è superiore alla normativa nazionale è una posizione molto azzardata che il concetto di limite no? che la normativa europea costituisce il limite della nostra della nostra normativa interna come se appunto noi non fossimo più sovrani un soggetto che ammette di avere dei vincoli dei limiti non ce li ha di fatto ma ammette di averli di diritto non è un soggetto sovrano rispetto a questa posizione abbiamo introdotto poi il concetto di contro limite cioè che in realtà la nostra Costituzione prevale sopra quella europea per quanto riguarda i principi fondamentali ecco allora siccome nei principi fondamentali non c'è la separazione dei poteri sarebbe interessante vedere che cosa succederebbe se per assurdo venisse da Bruxelles l'ordine di confondere i tre poteri anzi i due poteri e l'ordine giudiziario per vedere se noi lo considereremmo qualche cosa che fa parte dei limiti o dei controlimiti la sovranità è il modo d'essere della politica prima ce ne accorgiamo meglio è ce ne accorgiamo certamente poco quando quando le crisi sono sotto pelle o nello sfondo ce ne accorgiamo dentro una crisi in Italia quando la sovranità smonta e rimonta la società a suo piacere senza fare colpi di Stato perché sarebbe troppo facile dire è stato fatto un colpo di Stato non è stato fatto un colpo di Stato e a livello europeo quando in previsione del fatto che ci toccherà chiedere dei soldi all'Europa la Germania ci manca da dire restituire perché e dovete restituire alle condizioni previste dal MES senza condizionalità aggiuntive e ci mancherebbe ma con le condizionalità previste dai trattati al di là dei giochi di parole che fanno alcuni nostri ommeni politici molto amici dell'Europa senza condizionalità aggiuntive non vuol dire senza condizionalità evidentemente come dire non vi aspettate mai poi mai gli euro bond meno che mai la monetizzazione dei vostri debiti prenderete denaro o prestito sì certo lo restituirete con le modalità che stabiliremmo noi a cui voi dovrete sottostare cioè sovranità non dell'Europa sovranità di chi ci sta dicendo questo sopra prevalente prevaricante o non prevaricante nel senso formale ma prevalente in senso materiale rispetto alla nostra sovranità non se ne può fare a meno per ragionare di politica se poi si vuole ragionare di qualche cosa o d'altro non lo so ma di politica ho l'impressione che non si possa e che ne stiamo vivendo la dimostrazione io la ringrazio per le riflessioni che ha condiviso con me ovviamente poi questa intervista verrà trasmessa sui social quindi due parole anche per chi ci ascolta io ricordo solo che questa intervista è stata realizzata da Sottosopra e per l'associazione Sottosopra che anche quest'anno avrebbe dovuto cercare di organizzare una scuola di politica non abbiamo potuto farlo in presenza cerchiamo di rimediare con questi surrogati virtuali l'obiettivo rimane sempre lo stesso cioè idee per ripensare il presente e immaginare il futuro mettere sul tavolo concetti di questo tipo è difficile ringraziamo il professore di aver contribuito a questo lavoro anche quest'anno in questa forma particolare e consiglio a tutti appunto di seguire Ragioni Politiche il blog di cui il professore è titolare dove pubblica i suoi contributi e anche se vorrete i canali social e il profilo youtube di sotto sopra per rimanere aggiornati delle nostre varie attività e interviste chiedo al professore di rimanere un attimo in linea ancora sospendo la legislazione e ovviamente saluto tutti e ringrazio tutti per l'ascolto di rimanere un attimo di rimanere un attimo